La mia più grande passione è scrivere e ieri proprio qui per omaggiare innanzitutto i miei colleghi l'amministrazione provinciale che sento mi appartiene ed infatti ringrazio pubblicamente il presidente Michele Strianese che mi ha dato l'opportunità di poterlo presentare qui con il patrocinio morale della provincia di Salerno. Il mio libro di poesie si intitola Rea d'amore ma non è firmato dal mio nome di battesimo, è firmato Selvaggia Leone perché ho scelto uno pseudonimo come i grandi poeti tipo Pablo Neruda, una Sibilla Leramo e ho scelto questo nome così forte per rimarcare da un lato la mia spiccata indole felina ma dall'altro anche per mascherare le mie tante fragilità. Ed infatti mentre mi chiamo Selvaggia Leone mi dichiaro Rea d'amore, cioè colpevole di aver amato. Perché sono colpevole? Perché ho amato fortemente l'amore ma non sono sempre stata amata dall'amore e questa mia ostinazione di voler cercare a tutti i costi un amore impossibile mi ha portato ad ammettere anche delle colpe ma che in realtà colpe non sono, nessuno può sentirsi colpevole di aver amato e quindi ho giocato su questo mio sentirmi Rea confessa. Il libro è un libro che parla di amore, è un inno all'amore, un amore con i suoi colori e con le sue ombre, con i colori della passione e con le ombre più scure del fallimento, dei miei fallimenti d'amore. La prima parte del libro si intitola Semplicemente T'Amo e troviamo delle liriche molto dolci, di un amore vissuto, di un amore ricercato ma a volte anche proibito. Ma il cuore del libro sta nella seconda parte che invece si intitola Maledettamente T'Amo dove questo amore si tinge di nero, ci sono appunto il dolore, l'ossessione, la non accettazione del rifiuto. La terza parte invece diciamo che fa in modo che il lettore e io stessa possano trasferire i propri pensieri su un futuro oggetto d'amore, perché la parte dell'esplosione dell'eros, senza veli, senza filtri, infatti ho raccolto una serie di poesie erotiche. Questa parte si intitola Eros e Venere. Ma il libro, oltre a parlare di quest'amore di donna nei confronti di un uomo o di più di un uomo perché non vi è raccontato un'unica storia d'amore, ma nel libro non è soltanto presente questo amore di donna nei confronti del proprio uomo o di più uomini in quanto non è raccontato un'unica storia, sono poesie che ho raccolto negli anni, quindi magari ci sono più storie d'amore. C'è anche l'amore più importante che una donna può avere quando è madre, l'amore per il proprio figlio e infatti apro la raccolta con una poesia dedicata a mia figlia che si intitola Luce. E chiudo invece con una tenera ed emozionante poesia che ieri, devo dire, ha emozionato tutti. Il ricordo al mio primo amore che è purtroppo prematuramente scomparso alla tenera età di vent'anni. La poesia si intitola A Simone e Simone era un mio primo fidanzatino di quando era adolescente che vive ancora oggi nei miei ricordi e mi auguro e insomma ho forse questa presunzione che possa restare eterno nei miei versi. Ho voluto iniziare con una poesia alla persona, a mia figlia, insomma la persona che ho dato io stessa alla luce, quindi questo inno alla vita e concludere invece con questa poesia al mio amore, al mio primo amore che non c'è più ma che continua a vivere nonostante la morte per creare quasi un ponte tra la vita e quello che continua a vivere dopo la morte.